Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò velocemente come collegare il vostro account Epic Games a Facebook, Google, Twitch e così via dicendo. La procedura è semplicissima, velocissima, però se riscontrate problemi non vi resta che vedere questo tutorial. Non potete farlo dall'applicazione sullo smartphone, non potete farlo dal client sul PC, dovete farlo dal sito web ufficiale epicgames.com, accessibile naturalmente da qualsiasi browser web. Quindi andate su www.epicgames.com ed effettuate l'accesso con il vostro account Epic Games. Dopodiché cliccate sul nick in alto a destra, cliccate su account, cliccate su collegamenti e qui avrete app e account. In app vi è la lista completa delle applicazioni collegate al vostro account Epic Games, applicazioni che vengono collegate esternamente. Quindi qui potete solo revocare l'accesso, non potete ad esempio associare il vostro account Epic Games a quello di Square Enix perché va fatto sul sito web ufficiale. Questa operazione, come vi ho diciamo svelato di recente, permette di ottenere i guantoni di Hulk gratis dalla beta di Marvel's Avengers. Quindi vi invito in questo caso a vedere l'apposito video. Da qui potete solo revocare l'accesso alle varie applicazioni che avete collegato al vostro account Epic Games esternamente. In account invece avete la possibilità di collegare il vostro Facebook, Google, Steam, Twitch, Xbox, PlayStation Network, Nintendo Switch e GitHub, o meglio GitHub scusate, al vostro account Epic Games. Quindi, ricapitolando, andate su epicgames.com, effettuate l'accesso con il vostro account, cliccate qui, cliccate su account, su collegamenti, account e da qui poi cliccate su collegati per essere indirizzati ad una nuova pagina o un pop-up dove dovete poi confermare il collegamento, indicare il vostro account Facebook, Google, Twitch e così via dicendo e il gioco è fatto. In questo modo qua collegherete i vostri account, che attualmente sono questi, all'account Epic Games.